Sono stati la sorpresa dell'ultimo dopo-festival di Sanremo, tanto che Nicola Savino ne ha voluto l'esibizione in diretta dal red carpet dell'Ariston durante la puntata di Quelli che è il calcio al termine della fermesca Nora. Entrati in punta di piedi nelle dirette pre-festival dalla postazione mobile di Radio 2, sono diventati i veri protagonisti del programma trasmesso a fine serata sul web. Domenico Leserri, voce, percussioni e arrangiamenti, Vito Caramia, voce, Edia Monica e Fabio Ancona, voce, i tri bemolle, sono musicisti dal suono raffinato e frizzante, dotati di splendide voci e di un ritmo giovane e fresco. Domani sera si esibiranno al Teatro di Cagno in una performance sperimentale, un viaggio nella comicità dal titolo Musica Maestro, scritto da Fabiano Marti. Il direttore artistico del Teatro Barese ha fortemente voluto il trio martinese nel cartellone di questa stagione, proponendolo in chiave cavarettistica. Ha cucito minuziosamente su di loro un percorso di 80 minuti lungo le strade della musica italiana e internazionale, con brani di successo riarrangiati e cantati a cappella, intracciati a brellanti gag, nelle quali i tri bemolle si muovono in maniera assolutamente naturale. Lo spettacolo è in collaborazione con l'associazione culturale Eco Events.